Domani la Fortitudo Moncada giocherà la prima giornata di campionato in divisione nazionale a Reggio Calabria. Come si è preparata la squadra in questi giorni? La squadra adesso si sta preparando in maniera abbastanza continua, nel senso che con l'inserimento di Castelli abbiamo la necessità di allenarci di più, di inserirlo nei giochi, negli schemi, quindi c'è un lavoro doppio quasi per i ragazzi. Si sta preparando secondo me al meglio, abbiamo trovato una soluzione ideale con Riccardo per sostituire Albano e anche attenzionare al problema di giovanato che ha dei problemi fisici e non vorremmo poi trovarci durante il campionato, soprattutto la prima parte che sulla carta è quella più abbordabile in difficoltà. Per cui siamo corsi dei pari e speriamo che già domani a Reggio Calabria facciamo vedere un buon gioco e riporterà a casa la partita, visto che considerato stiamo riprendendo da dove abbiamo finito, dai finali con Reggio Calabria B2. Abbiamo avuto un assaggio tra l'altro la scorso weekend contro Reggio Calabria, secondo me è un ottimo test, abbiamo visto questo pala botteghelle che per noi è stregato già dall'anno scorso. E siamo andati anche, secondo me, discretamente bene rispetto alle ultime uscite che abbiamo fatto lì e sono abbastanza fisicioso.